Cancro. Avere tanti pianeti favorevoli, Sole, Mercurio, Marte, Giove, Saturno, è un indizio di forza. Quindi è probabile che anche all'interno del tuo lavoro ci siano delle novità, delle opportunità, delle chiamate, delle risorse. Puoi dipendere da quello che stai facendo, ovviamente. Anche i sentimenti sono valorizzati. Per chi può, questo è un cielo utile per, ad esempio, avere un figlio, sposarsi, convivere, ma anche per fare una nuova conoscenza. Bando alle malinconie, mi raccomando.